buongiorno a tutti saluto i colleghi gli odontoiatri mi presento sono andrea toffali e sono cotitolare insieme al mio socio paolo per bellini di un laboratorio odontotecnico in verona un'altra un'altra cosa con cui mi sono trovato molto bene sono quei kit fatti per lucidare la zirconia tutti voi sapete che la zirconia ha bisogno di un piccolo supporto chiamate festonatura sono praticamente quei bordi linguali che si fa per supporto della ceramica naturalmente questi non possono essere lucidati tramite la glasura ma vengono lucidati meccanicamente quindi con delle con delle gomme ci sono tre gomme che devono essere usate in sequenza che ti permettono di lucidare appunto questo bordo a specchio come si faceva una volta con la vecchia me vecchio metodo della metallo ceramica dopo vabbè c'è un passaggio da fare con delle spazzoline tipo di pelo di capra e delle paste dedicate però queste gomme lucidano già specchio come dicevo e soprattutto non si consumano nel senso che hanno una durata molto molto lunga e ti permettono anche di ammortizzare quella spesa fatta appunto di questo kit